Grazie a tutti per la scuola di Karlsruhe. Benvenuti alla Università di Oviedo. Benvenuti alla Università di Tecnologia di Tegno in Ireland. Benvenuti all'Università Gabriele d'Annunzio Chiedi-Pescara, Italia. Varmt welcome to the High School of New York. Benvenuti alla Università Tecnica Giorgia Saki di Niasi, România. Benvenuti all'Università di Tegno in Italia. Benvenuti all'Università di Tegno in Giorgia Saki di Niasi, România. Benvenuti all'Università di Tegno in Giorgia Saki di Tegno in Sofia, Bulgaria. Benvenuti all'Università di Ingenium. Siamo 10 università, sia in più comprensivi e specialisti. Spreate all'Università di Tegno in Unione, e inizia i nostri membri la creazione di un'Università di Tegno in Giorgia Saki. È ora di fare un tour di nostri compagni. Fondazione di Tegno in Giorgia Saki, ore di Tegno in Giorgia Saki di Niasi, Romà, Il nostro progetto è permettere ai studenti, accademici e partneri interdisciplinari in modo da rispondere a gli obiettivi globali, locali e societali confronti dalla società europea. Per questo abbiamo il supporto di un gruppo di associati partneri, da un gruppo locali a un gruppo industriali, anche i gruppi civili, che saranno coinvolto in diverse livelli della nostra actione. Inoltre la nostra strategia di lungo termine, vogliamo contribuire alla l'obiettivi dell'area europea in termini di innovazione educativa, l'entreprenzio, l'equità e l'inclusione, il sviluppo di sviluppo e la transformazione digitale. Il nostro 172.000 studenti poteranno attraverso la mobilità fisica o virtuale a tutti i livelli di studi. Grazie a tutti!